Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza, un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. In direzione mare è chiusa l'entrata di Montelupo. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Pisa tra Chiesina Uzzanese e Alto Pascio. Sulla A1 in direzione Bologna è vietato il transito ai mezzi pesanti tra il bivio per la variante di Valico e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!